Il contributo a fondo perduto previsto dal decreto rilancio è indirizzato alle partite IVA che esercitano un'attività di impresa, ai lavoratori autonomi e ai produttori di reddito agrario. Il contributo è indirizzato ai soggetti che hanno due condizioni. La prima condizione è quella di aver avuto un fatturato inferiore ai 5 milioni di euro nell'anno 2019. La seconda è quella di aver avuto una riduzione del fatturato di almeno un terzo facendo un raffronto tra gli incassi del mese di aprile 2020 rispetto agli incassi del mese di aprile 2019. Ci sono due eccezioni a questa riduzione del fatturato. Quindi non si tiene conto la riduzione del fatturato per tutti i soggetti che hanno iniziato l'attività in data successiva al 1 gennaio 2019 e tutti quei soggetti che risiedevano in un comune che alla data del 31-12-2020 era ancora in stato di calamità. Quindi non necessariamente uno stato di calamità da coronavirus. Ma vedrete che all'interno delle istruzioni dell'Agenzia delle Entrate c'è un elenco non esistivo di comuni che si trovavano ancora in calamità. Esempio per la Liguria troviamo il comune di Genova col crollo del Ponte Morandi. La domanda di contributo può essere presentata in un arco temporale che va dal 15 giugno al 13 di agosto con un'eccezione al 24 di agosto direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Quindi il contribuente può farlo in autonomia accedendo con le modalità consuete, quindi con il suo speed, la carta nazionale dei servizi, Entrate il fisco online. Oppure lo può delegare un intermediario che in questo caso deve avere la possibilità di accedere al cassetto fatturazione elettronica. Il calcolo del contributo è molto semplice. Viene determinato come differenza tra gli incassi di aprile 2020 con gli incassi di aprile 2019. Su questa riduzione di fatturato viene applicata una percentuale che varia dal 20 al 10% a seconda del fatturato che si aveva nell'anno precedente. e il contributo viene così determinato. Ad ogni modo ci sono dei minimali di contributi che vengono erogati che sono per le persone fisiche 1.000 euro, per gli altri soggetti sono 2.000 euro. Secondo quanto dichiarato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, entro 10 giorni dalla richiesta di contributo questi soldi verranno erogati direttamente sul conto corrente del contribuente. Noi come Confartigianato siamo a disposizione per qualsiasi tipo di informazione. e ad ogni modo per i nostri contribuenti provvederemo in autonomia a chiedere quanto di loro spettanza.